Ciao guerrieri di luce, io sono Valerio e in questo video voglio proporvi una meditazione guidata per eliminare le energie parassitarie presenti nel corpo. Diciamo che questo rituale è una rivistazione della vera e propria estrazione sciamanica, una tecnica di sciamanesimo che insegniamo io e Giosuè nei nostri corsi e seminari. Tecnica che ha il compito di ripulire completamente il corpo da energie dissonanti, parassitarie e disarmoniche. Questa meditazione guidata utilizzerà il potere purificatore dell'acqua e il potere di trasmutazione del fuoco. Puoi fare questa meditazione in piedi, seduto o sdraiato. L'importante è che tu sia comodo, accendi una candela e abbassa le luci. Se preferisci accendi anche un incenso di tuo gradimento. Adesso metti in pausa il video e dai il via quando sei pronto. Chiudi gli occhi e concentrati sul respiro. fai dei respiri lenti e profondi gonfiando l'addome. senti che bella che è questa sensazione. L'aria entra ed esce dal tuo corpo. Entra ossigeno dal naso ed esce anidride carbonica dalla bocca. Continua a goderti questa sensazione. Adesso che sei rilassato inizia ad immaginarti in piedi all'interno di un bosco. sei nudo ma non hai né caldo né freddo. Ti senti completamente in armonia con la natura che è intorno a te. Ti accorgi che davanti a te c'è una bellissima cascata d'acqua. e piano piano ti avvicini a lei entrando sotto il suo getto d'acqua. La temperatura dell'acqua sul tuo corpo è perfetta così com'è. Senti com'è piacevole il solo atto di percepire quest'acqua che scorre su tutto il tuo corpo. chiedi allo spirito dell'acqua tramite il suo potere purificatore di lavare via dal tuo corpo tutte quelle energie che appesantiscono il tuo cuore, il tuo corpo e la tua mente. visualizza adesso questo getto d'acqua che filtra all'interno del tuo corpo e mentre passa pulisce e porta via con sé tutte le energie dissonanti. porta via tutto ciò che è disarmonico dai pensieri alle energie ai dolori. tutto ciò che è disarmonico viene portato via da questa acqua purificatrice. osserva queste disarmonie che fuoriescono adesso dalle pietre. piante dei tuoi piedi. queste disarmonie che escono dal tuo corpo potrebbero apparirti sotto forma di fumo, sotto forma di melma, sotto forma di ombre o altro. guardale adesso iniziare a filtrare nel terreno. osserva come scendano sempre più giù, sempre più in profondità. guardale filtrare mentre si allontanano da te, fino ad arrivare ad incontrare il nucleo della terra. un nucleo caldo, bollente, che accoglie queste energie dissonanti. vedi come questo fuoco guaritore, questo fuoco purificatore, trasmuta tutte queste energie trasformandole in un liquido bianco brillante. goditi questo momento magico, questo momento di trasmutazione, questo momento dove lo spirito del fuoco dimostra tutta la sua potenza. adesso che lo spirito del fuoco ha completato il suo lavoro di trasmutazione, permetti a queste energie purificate, a questo liquido abbagliante di risalire verso di te. osserva questo liquido che passa attraverso il terreno fino ad arrivare nuovamente alle piante dei tuoi piedi. osserva questo liquido che entra dalle piante dei piedi ed innonda della sua energia benefica ogni angolo del tuo corpo. assapora pieno questa sensazione di benessere. rigenerati e ricaricati completamente con questo liquido splendente. assapora pieno questa sensazione di benessere. assapora pieno questa sensazione di benessere. ringrazia con il potere dell'amore lo spirito dell'acqua e lo spirito del fuoco per l'aiuto e per la guarigione che ti hanno fatto. adesso che ti sei completamente purificato e rigenerato puoi iniziare a prendere nuovamente contatto con il tuo corpo. inizi a muovere lentamente prima un piede poi l'altro muovi prima una mano e poi l'altra. con i tuoi tempi inizia ad aprire gli occhi e a tornare nel qui ed ora. bentornato bentornato adesso che hai terminato la meditazione ti consiglio di trascrivere sul tuo diario le sensazioni provate in modo da poterle rileggere in futuro. ricorda che questa meditazione guidata può essere ripetuta successivamente tutte le volte che ne senti la necessità. come sempre a questo punto ti chiedo di lasciare un like se la meditazione ti è piaciuta e di farmi sapere cosa hai sperimentato. ricordati di iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto e di attivare la campanella. ti mando un abbraccio di luce e ci vediamo al prossimo video.